Musica Buonasera e ben ritrovati, torniamo ad occuparci dei giochi olimpici. Il 2026 sembra lontano ma così non è. Ci vorrà davvero tanto tempo per preparare la stazione a questo grande evento, ma soprattutto ci vorranno le idee chiare. Scopriremo questa sera se già ci sono, a che punto siamo, che cosa preparerà Livigno, che cosa ci dovremmo attendere. Ne parliamo con il presidente di APT, Luca Moretti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. E con il vice sindaco di Livigno, Remo Galli. Buonasera. Tempo di parlare di giochi olimpici, anche perché abbiamo visto quanto velocemente è passato questo anno da quando l'Italia ha vinto la candidatura e quanto tempo è necessario per organizzare e per definire quelli che sono i programmi. È tutto confermato? Vi sono cambiamenti? Sì, diceva bene, insomma, questo anno è volato, purtroppo abbiamo avuto questa emergenza, questa emergenza Covid che ha cambiato, ha trasformato un po' tutta l'Italia, tutti i nostri obiettivi in generale di tutte le persone che hanno vissuto questa pandemia. Purtroppo si è perso un anno perché anche Regione Lombardia, con la quale abbiamo dovuto affrontare il tema olimpico, ha dovuto occuparsi di altre priorità. Oggi è passato un anno, oggi non c'è più tempo da perdere perché se vogliamo preparare la nostra località per il 2026 abbiamo davvero tanta strada da fare e speriamo già da questo autunno di partire a fare una programmazione importante per migliorare il nostro paese. Luca Moretti, qualche settimana fa a Livigno è arrivata una prima commissione, una commissione che è stata chiamata proprio da voi per innanzitutto identificare i luoghi e le venue dei giochi olimpici. Sì, esattamente. Appena abbiamo avuto l'ufficialità dell'assegnazione dei giochi olimpici, personalmente mi sono mosso per far sì che la FIS, quindi la Federazione Internazionale Ski, facesse le scelte opportune in modo tecnico e adeguato di quelle che sono le aree di gara. Perché questo? Perché a differenza delle altre località, a differenza di Anterselva, a differenza della Val di Fiemme, a differenza di Bormio, che è qui vicino quindi ci viene un po' più facile come esempio, loro hanno già delle gare in atto anno per anno, quindi la Coppa del Mondo di Scesa Libere, quindi basterebbe solo cambiare il logo della Coppa del Mondo con i cerchi olimpici e le Olimpiadi si potrebbero fare. Questo vale per Bormio e per i paesi che ho citato prima. Faccio un altro esempio, Anterselva, appena fatto un mondiale, quindi ha rinventato e rinnovato tutta l'infrastruttura del poligono e quindi a loro basta veramente cambiare le bandiere e si potrebbe fare una competizione olimpica. La differenza tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi sta nella sicurezza. Quindi con solo la sicurezza e l'aggiornamento dei piani di sicurezza per quanto riguardano attentati, eccetera, potrebbero fare le gare. Tutti questi sono molto avvantaggiati, tutte queste località sono molto avvantaggiate rispetto alla nostra località. È per questo che mi sono tanto prodigato quanto speso per avere appunto questa visita alla Fischia, avvenuta purtroppo solo dopo tutta l'emergenza Covid, eccetera. Il risultato è avvenuto, ci è stato spedito proprio questa settimana, inizio di questa settimana e abbiamo adesso individuato le zone e quindi possiamo adesso dire quali possono essere le zone che andranno a ospitare i giochi olimpici nelle discipline snowboard e freestyle, sia alpino che appunto snowboard e quelle che avranno meno impatto a livello di lavori, scavi o cambiamenti di terreno. Una delle particolarità di Livigno, se non sbaglio, è quella di avere fin troppe opportunità e quindi credo che sia stata questa una delle maggiori difficoltà riscontrate nel dover individuare un'area piuttosto che un'altra. Sì, esattamente, è proprio così. Nella presentazione alla Fischia, che è stata fatta in Piazza Placheda nella prima giornata, è stato sottoposto il BID, quindi tutto il progetto di assegnazione delle Olimpiadi, che avevamo fatto su carta noi di APT, con tutti i collaboratori, ed è emerso che avevamo effettivamente troppe aree. Andando a sviscerare poi nel tecnico anche la parte più organizzativa dei giochi vera e propria, quindi gli accessi con i cargo per le televisioni, le tribune, le distanze e le vertical drop delle varie aree, quindi tutto quello che tecnicamente deve essere fatto anche via di fughe e quant'altro per quello che riguarda la vera esecuzione dei giochi, quindi la vera gara, ha permesso di individuare alcune aree che noi scartavamo o comunque assegnavamo ad altre discipline che invece sono state cambiate. Sta di fatto che Livigno è messa molto bene, quindi ha una vastità di territorio e di terreno dove poter eseguire queste gare senza dover per forza lavorare con dei macchinari o modificando i rilievi del terreno. Anche perché, questo lo chiedo al vice sindaco che è assessore al bilancio ma si occupa anche di opere pubbliche, questi giochi e questi lavori andranno effettuati nel corso delle stagioni, per cui con i turisti presenti non si potrà bloccare la... No, assolutamente no, ed è per quello che abbiamo già dall'autunno scorso mandato di fatto una richiesta a Regione Lombardia per riuscire ad avere subito i finanziamenti per quelle opere che riteniamo fondamentali per migliorare il nostro paese, perché quello che vorrei sottolineare è che le Olimpiadi possono rappresentare davvero una grande opportunità per migliorare i problemi che abbiamo, abbiamo da tanto tempo, l'abbiamo visto uno su tutti, l'abbiamo visto in questi giorni, le macchine, i parcheggi, le macchine parcheggiate un po' ovunque, negli anni, questo non per colpa delle amministrazioni precedenti, si è continuato a chiedere ad esempio i parcheggi interrati, che però hanno dei costi molto elevati, ad esempio noi abbiamo fatto un progetto di fattibilità di un parcheggio da 500 posti a un investimento di circa 20 milioni di euro, quindi con un comune di Livigno che può investire circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo l'anno, questo spiega perché negli anni non si è mai riusciti a fare dei parcheggi interrati che dessero un pochettino più di ordine al nostro paese, e quindi noi ci siamo concentrati con Regione Lombardia nel chiedere, ne abbiamo chiesti 45 di milioni, per fare dei parcheggi interrati all'interno della nostra località. Noi siamo in questo momento in una fase di ripresa dopo un periodo di emergenza e insomma siamo tutti preoccupati per quello che potrà accadere in un prossimo futuro, ma siamo certi che questi giochi saranno una rinascita generale e saranno un trampolino di lancio per tutta la Valtellina, per in generale la montagna, questo è un po' il pensiero comune. Lei è d'accordo? Assolutamente sì, perché quando siamo diventati sede olimpica tanti magari ritenevano che non ne avevamo la necessità insomma, perché comunque il nostro turismo era fiorente, comunque si sviluppava ogni stagione con un più 10%, un più 5%. E poi è successo quello che è successo, quindi è successo il Covid e questo sicuramente ha portato una percezione anche all'interno del nostro paese come non avere il turismo, non avere chi sceglie la nostra località blocchi tutto. Noi abbiamo vissuto in comune perché avendo avuto un buco di due o tre mesi abbiamo dovuto tutelare ad esempio i servizi sociali, i servizi ambientali, cioè tutto quello che si fa a Livigno passa dal turismo e da quello che fanno gli operatori. Quindi oggi è ancora più importante avere le Olimpiadi, lo si capisce perché tante altre stazioni che magari avevano un po' snobbato la candidatura olimpica oggi stanno bussando ad esempio a Regione Lombardia per chiedere di essere all'interno coinvolti nel progetto olimpico. Noi ci siamo, e sarà a noi tenere gli occhi aperti e cercare di fare il meglio possibile. Livigno giocherà un ruolo molto importante in questi giochi perché non sarà solo sede di gara ma sarà anche sede medal plaza e ospiterà anche un villaggio olimpico, è così? Sì, diciamo che Livigno comunque, quello che diceva prima Luca, noi abbiamo tante opportunità, abbiamo tanto territorio, comunque tanti operatori che hanno investito già ad esempio se prendessiamo gli impianti da sci, però ad esempio abbiamo dei problemi infrastrutturali nel fare un grande evento. Ad esempio io ho seguito anche diciamo la candidatura tramite anche Bormio, Bormio ha un avventaggio, ha già grandi eventi, se pensiamo alla pista Stelvio è già abituata a fare un evento diciamo mondiale. Noi non ne abbiamo mai fatti e quindi sarà una sfida nuova per noi e dovremo anche creare quelle infrastrutture che miglioreranno il nostro paese. Dicevo prima, ad esempio sui parcheggi interrati noi abbiamo chiesto 45 milioni di euro, se non saremo in grado di trasformare questi parcheggi in parcheggi green, in parcheggi dove le macchine non si vedranno non riusciremo a fare un'olimpiadi degna del nome che abbiamo. Quindi noi dovremmo correre di più degli altri, questo è sicuramente un must che dovremmo sapere perché purtroppo abbiamo dei problemi infrastrutturali perché non abbiamo mai avuto questi grandi eventi. Dicevamo Livigno ospiterà anche il villaggio olimpico, la comunità montana e alcune amministrazioni avevano chiesto inizialmente di realizzarlo a Sondaro, dopodiché era stato invece assegnato a Livigno. Un tema questo delicato e che ha anche sollevato qualche perplessità perché un villaggio olimpico implica anche la realizzazione e l'organizzazione di molti posti letto. Di quanti posti letto per esattezza? Sì, magari riparto dall'inizio nel senso che è vero, nel momento di candidatura noi avevamo proposto di riqualificare un intero padiglione in dismissione a Sondalo perché già c'era il tema di Sondalo, quindi come punto di riferimento della nostra sanità, con l'idea di inserire il villaggio olimpico e poi di riqualificarlo successivamente per un utilizzo sanitario. Purtroppo a pochi giorni, a pochi settimane dalla candidatura ufficiale, gli atleti avevano manifestato la non accoglienza di fatto di quella location perché era troppo lontana, troppo distante dalle gare. Quindi per riuscire a fare una candidatura che potesse vincere abbiamo dovuto individuare un villaggio olimpico all'interno delle località che erano presenti, quindi Olivigno e Bormi, abbiamo individuato Olivigno e in quel momento non c'era la possibilità di utilizzare ad esempio gli alberghi esistenti. Dico questo perché quella candidatura ha permesso che dal giorno dopo della vittoria noi abbiamo intavolato subito un discorso con il CONI, con Regione Lombardia perché noi riteniamo importante e fondamentale non realizzare il villaggio olimpico così come pensato all'interno del dossier che come spiegavo prima era stato fatto per diciamo una garanzia di posti letto all'interno delle venues di gara e abbiamo deciso di avanzare una proposta che è in fase di discussione ma abbiamo fatto diversi incontri all'interno di Regione Lombardia, all'interno del CONI per utilizzare gli alberghi esistenti. Quindi avete cambiato programma? Abbiamo traslato il programma quindi non rifare un villaggio olimpico sul territorio di Olivigno, questo ci vede contrari perché riteniamo che è importantissimo la valorizzazione del nostro territorio, quindi quello era stato inserito per una candidatura, poi abbiamo deciso di lavorare, di fare questa proposta. Ci sarà ancora da lottare, da discutere con gli enti superiori ma siamo sicuri di riuscire a portare a casa questa che secondo me è una bella vittoria per Olivigno perché se riuscissimo a utilizzare gli alberghi già esistenti potremmo evitare di consumare territorio e potremmo già dare una velocità di esecuzione al villaggio olimpico che altrimenti non avremmo. Sondolo doveva ospitare inizialmente il villaggio olimpico ma soprattutto Sondolo doveva diventare il riferimento sanitario dei giochi. Quello che sta accadendo però in questo momento non rassicura affatto, anzi preoccupa, come potrà dare il territorio una risposta efficiente e efficace ai turisti, agli ospiti e anche agli atleti che saranno qui in occasione dei giochi se questo ospedale verrà depotenziato e i suoi servizi, le sue eccellenze verranno trasferite. Assolutamente sì, nel senso che quando c'è stato anche il sopralluogo un tema molto importante del CIO era la sicurezza sanitaria, comunque avere una struttura sanitaria idonea per un evento di questo tipo. Come si diceva prima l'Olimpiadi è l'evento per eccellenza, cioè non è paragonabile nessun altro evento e noi come comuni, come Altavalle avevamo insistito molto sull'ospedale di Sondolo perché poteva rappresentare un'occasione di grande lustro della nostra sanità che comunque Sondolo negli anni è sempre stata riconosciuta come presenza di grandi primari, presenza di grande cordialità perché andare all'ospedale di Sondolo non è come andare in un altro ospedale, ti riconoscono magari per nome e non sei un numero. Quindi questa era una base all'interno del dossier, io spero e credo che si possa continuare in questa direzione nel senso di riconoscere Sondolo come punto di riferimento della sanità lombarda, si deve arrivare lì perché oggi anche la sicurezza sanitaria è un motivo di scelta turistica anche dopo il Covid. Come si diceva prima sulle strade, l'Olimpiadi deve essere lo strumento però poi la sanità ci deve restare per tutti noi chi rimane dopo il 2026. Quindi io spero che sia davvero l'occasione per riguardare a fondo tutta la sanità di montagna, l'ospedale di Sondolo ma tutti i problemi che abbiamo. Lo vediamo in questi giorni ma proprio perché è cambiato il mondo al nostro pronto soccorso non c'è un ortopedico, non c'è un radiologo. Quindi oggi quando uno si sloga un polso, una caviglia ha un problema e succede perché abbiamo tantissime persone sulle biciclette, biciclette elettriche, downhill. Oggi uno si deve sobbarcare in ambulanza un tragitto da qui a Sondolo o purtroppo come succede in queste settimane da qui a Sondrio. Credo che ad esempio anche lì si debba intervenire per poi garantire questi servizi alla nostra popolazione. Quindi sono uno strumento, è giusto che mettiamo sul piatto le Olimpiadi per salvaguardare la nostra sanità ma è giusto che la nostra sanità venga riconosciuta a noi gente di montagna indipendentemente dalle Olimpiadi perché ci viviamo sempre. Perché è un diritto. È un diritto che dobbiamo difendere. Chiedo a Moretti che è stato anche un atleta e ha frequentato questi contesti ma il villaggio olimpico non implica anche l'isolamento di tutti gli atleti e quindi la creazione di una grande casa che li tenga protetti e li faccia vivere questa esperienza del villaggio appunto senza interferenze. Sì esattamente così nel senso che sia a Vancouver sia a Torino i villaggi olimpici servono ma in tutte le Olimpiadi passate servono per dare protezione a quelli che sono gli atleti e allo staff di questi atleti quindi agli allenatori. Protezione da eventuali attacchi terroristici, protezione da qualsiasi inserimento esterno che possa essere anche la possibilità del doping perché questo è anche un altro dei temi che soprattutto in quello estivo non che quello vernale non ci sia ma in quello estivo ha maggior ragione quindi l'influenza di persone esterne non accreditate o non accreditabili che quindi potrebbero entrare se non ci fosse la sicurezza. Quindi il villaggio olimpico serve a quello. Al di là di tutta l'attività recreativa e dell'attività di coinvolgimento tra nazioni quindi atleti di nazioni appartenenti a una nazione o un'altra che quindi si incontrano ed ecco lì nasce proprio lo spirito olimpico. C'è da dire una cosa però che queste sono una nuova era delle Olimpiadi quindi è cambiato la prospettiva è cambiata completamente. È vero la sicurezza, è vero che ci sarà ancora necessità della sicurezza perché se pensiamo che le Olimpiadi fermano le guerre quindi non è proprio un giochino, è proprio un must degli eventi mondiali quindi è l'evento per antonomasia. Cambiando questa visione però il focus o comunque la concentrazione si è spostata più sulla legacy quindi su quello che può essere il futuro delle infrastrutture olimpiche. Questo ha cambiato tutta la proiezione dell'assegnazione delle gare soprattutto la vittoria è stata ottenuta anche per questo ed è per questo che nelle nostre relazioni avute attraverso il CONI, al CIO e in particolare la Regione Lombardia siamo riusciti a far passare un messaggio diverso che la legacy quindi l'aspetto futuro e futuribile di una struttura possa andare avanti nel tempo. E quale è la miglior cosa che gli alberghi già esistenti? Quindi a questa domanda ci aspettiamo solo una risposta che è quella affermativa perché va in linea con quello che è la nuova visione quindi loro non possono proclamare, loro intendo il CIO, il CONI eccetera, una linea e poi sposarne un'altra. Il fatto del villaggio olimpico nella località di Acquagranda, nella zona di Acquagranda aveva sì una funzione futuribile che era quella dei container eccetera eccetera ma avrebbero lasciato più spese in gobba alla parte sportiva quindi alla parte di fondazione che a quella diciamo di Regione Lombardia o quella del Comune di Livigno o quella della provincia o dello Stato stesso. Quindi con questa mossa pensiamo di poter portare a casa questa nuova soluzione che ha come visione quella di permettere una struttura già in essere perché di questo si tratta e soprattutto che abbia poi una funzione futura che è quella dell'hotel quindi si sposa bene. Ma esistono delle strutture Livigno con questa capacità e soprattutto che potranno per così dire comunque accogliere gli atleti come in un villaggio? La nostra proposta ha inserito degli hotel che possono ospitare il numero di persone che c'era stato richiesto nell'assegnazione delle Olimpiadi. Quanti saranno gli atleti? La scelta di avere un villaggio olimpico a Livigno è perché a Livigno avremo, assegneremo 24 barra 26 medaglie. Quindi a differenza di quella di Bormio che ne assegnerà molte meno, probabilmente solo 6, tra virgolette solo 6, magari più importanti, ma lo sci alpino ha una visione di gara e antecedente alla gara che è già abituato a stare in hotel, mentre le altre discipline sono più abituati al villaggio e quindi è stata fatta questa assegnazione in sede di candidatura. All'incirca dovranno essere 900 posti letto, 900 posti letto vuol dire 450 camere con i servizi. È chiaro che non è solo un hotel, ma è una serie di situazioni che possono agglomerare e di conseguenza mettere in sicurezza un'area dove all'interno ci sono degli hotel. Questa è la visione che credo sia la visione più ottimale e ne sono convinto per non andare a attaccare quello che può essere il territorio, ma soprattutto in linea con quello che è la nuova visione olimpica. Vice sindaco, possiamo dare qualche informazione in più su quest'idea, su questo progetto di un villaggio, se ho capito bene, quindi diffuso? Sì, diciamo che è una proposta nuova, ci crediamo, nel senso che come si diceva prima noi dobbiamo usare e sfruttare questa opportunità olimpica per migliorare il nostro paese, quindi tutto quello che noi abbiamo chiesto a Regione Lombardia servirà per risolvere dei problemi che abbiamo sul tappeto. Uno su tutti, come dicevo prima, i parcheggi, le auto parcheggiate un po' qui e là, quindi serviranno realizzare 3-4 parcheggi interrati di grosse dimensioni all'interno del nostro paese, poi magari andiamo a capire in che zona e allo stesso tempo non potevamo condividere l'idea di fare un villaggio olimpico che incidesse sul nostro territorio e sul nostro ambiente. Quindi abbiamo ragionato, abbiamo trovato questa soluzione che diremo probabilmente nelle prossime settimane, quando speriamo che venga accettata e credo sia giusto coinvolgere i cittadini. Quindi non ci dirà questa sera dove avete individuato? Non possiamo, però... Possiamo fare due calcoli sui posti lento. Ecco, però l'obiettivo è quello di usare, diciamo, alberghi già esistenti, quindi non andare a consumare territorio. Questo deve essere il must ed è molto importante che Livigno si faccia sentire, che Livigno non subisca le scelte. Questo l'ho detto anche parlando con una persona che aveva anche dei dubbi sulle Olimpiadi. L'importante non è non vederle, ma trovare il modo di gestirle. Quindi nessuna gru arriverà a Livigno per la realizzazione di un villaggio? Questa è l'idea? No, l'idea è questa. Questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo. Dovremmo avere le gru per realizzare i parcheggi interrati. Questo però è un altro discorso. Per fare l'opposto, per togliere le macchine dai prati e metterle sotto terra e ridare verde a Livigno. Il concetto olimpico che mi posso permettere di vedere che deve avere un futuro a Livigno è quello che deve essere un'opportunità per il locale. Deve essere un'opportunità per la nostra situazione, per la nostra vivibilità, per il nostro turismo e per i nostri interessi. Altrimenti cosa le facciamo a fare? Ce le guardiamo in televisione è molto più comodo. Quindi noi dobbiamo riuscire a introitare risorse dall'esterno, non mettercene dall'interno, non mettercene il meno possibile, per migliorare la vivibilità del paese. Lei quindi ci sta dicendo che comunque questi operatori che ospiteranno gli atleti ne avranno un ritorno economico? Sarà una proposta, un'offerta sostenibile anche da un punto di vista economico? Allora, fase numero uno è l'accettazione della proposta. Quindi siamo ancora prima di questa. Dopodiché vedremo quali sono le richieste che si vanno a mettere sul tavolo sia da parte degli operatori sia da parte del CIO, perché è il CIO la fine che sceglie. Il comitato Milano Cortina, la fondazione Milano Cortina dovrà mettere e voler portare questo progetto sul tavolo del CIO. Quindi dovrà essere accettato dal consiglio del CIO e di conseguenza aprire un nuovo scenario che permetterebbe in ogni modo anche alle future Olimpiadi di vedere appunto il consumo del territorio in un modo diverso, perché l'impatto veramente che potrà generare l'Olimpia del Vigno sarebbe stato solo il villaggio olimpico, perché se andiamo a parlare dell'evenio di gara dicevo prima che verrà utilizzato il meno possibile il terreno movimentato il meno possibile. E' chiaro che per un half pipe piuttosto che per un'area dello ski cross, dello snowboard cross alcuni interventi andranno fatti, ma non saranno maggiori di quelli che sono stati fatti per i mondiali 2005. Quindi nell'area Motolino erano state create delle strutture per dei salti in terra che poi sono state rimodellate e sistemate. Così si farà anche per le Olimpiadi. Questo perché? Non perché si vuole creare un qualcosa di particolare o di... Per ridurre l'impatto. Per garantire la funzionalità delle Olimpiadi in caso di assenza di neve. Perché uno dei problemi che è stato posto sul tavolo qui durante la FIS è che anche in Canada, anche Vancouver che notoriamente nevica a 9-10 metri a stagione, tranquillamente lo posso testimoniare che così, durante le Olimpiadi hanno avuto un'inversione termica, il FON caldo con vicino all'oceano e ha sciolto gran parte delle venue che dovevano ospitare le Olimpiadi. A quel punto si sono trovati in difficoltà, hanno attuato per le nuove Olimpiadi a seguire dal 2010 in avanti una protezione per lo svolgimento delle Olimpiadi. Quindi bisognerà costruire una parte di quell'evenio, dei salti, piuttosto che delle gobbe, piuttosto che delle pendenze per rimanere nei parametri col terreno. Poi ci nevica sopra, si farà l'evento e l'estate dopo si sistema tutto nuovo. Questa è un po' la figura che andremo ad azionare anche a Livigno. È normale che alcuni evenio hanno bisogno di un po' di sistemazione, ma le evenio che verranno prese in considerazione saranno quelle che necessiteranno del minore impatto possibile. Adesso gliele faccio anche spiegare, però credo che questo tema del villaggio olimpico sia davvero una novità molto, molto importante e che andrà a rassicurare moltissimo i cittadini che erano perplessi all'idea di veder realizzato in zona acquagranda una grande struttura, anche se convertibile poi e riutilizzabile, comunque importante e imponente. Ad esempio, un'ultima cosa, infatti condividevamo anche noi questa problematica. Io ad esempio avevo molti dubbi, soprattutto su quelli removibili, perché poi incidevano molto sulle lavorazioni, voleva dire per tre anni andare a fare degli scavi. quindi credo che se lavoreremo bene come Paese riusciremo a portare questa prima proposta accolta dal CIO. E questo sarà una grande vittoria per Livigno, perché permetterà di usare quelle risorse che non ho detto prima per fare altre cose che noi, penso che noi come Livigno, come popolazione, riteniamo più opportuna. Noi abbiamo inserito nelle richieste fatte a Regione Lombardia cinque grandi, diciamo, opere da realizzare, ma opere sempre con l'ottica di migliorare il nostro territorio. Quindi la prima opera fondamentale che abbiamo richiesto è quella di riqualificare l'accesso all'hospitality di Acquagranda, quindi l'idea di interrare le auto davanti all'ingresso di Acquagranda e quindi di realizzare un grande parcheggio a servizio poi della via Rasia, della via Pemont, quindi con un collegamento verso la via Pemont. Poi un altro grande parcheggio da 500 posti verrà realizzato, l'obiettivo di realizzarlo all'interno, diciamo, all'arrivo delle gare, quindi nella zona della Mottolino, per liberare finalmente la piana da quelle auto che tutti oggi vediamo e che credo che non siano più auspicabili che restano lì, e quindi però dobbiamo dare anche un servizio perché poi quel parcheggio viene utilizzato anche da un punto di vista funzionale da chi, ad esempio, si reca al lavoro in ZTL o nei negozi degli operatori commerciali. Altra grande opera che pensiamo di fare è quella di realizzare sempre un parcheggio interrato nella zona di San Rocco, sempre delle stesse dimensioni, all'interno del nostro tessuto, diciamo, di San Rocco, quindi si pensava all'interno di Plazza Placheda perché questo risulterebbe importante perché permetterebbe a chi arriva, diciamo, dalla Forcolo, comunque arriva da Foscagno, di lasciare le auto e poi di passeggiare anche nella zona di San Rocco e questo è molto importante per valorizzare anche quell'area lì. Di ampliare quello già esistente? Quello già esistente però di farlo interrato, cioè l'obiettivo è proprio di non vedere più le auto sopra terra. Ecco, stiamo parlando di parcheggi di quale capienza? Circa 500, 550 posti auto. Il quarto è di andare a valorizzare la strada della Forcola, quindi abbiamo chiesto 8 milioni di euro per, diciamo, rendere tutte le gallerie artificiali fino al passo e questo è molto importante perché un altro lavoro che andrà fatto e che oggi non c'è la soluzione facile sarà quella di parlare con i nostri vicini svizzeri per riuscire davvero ad aprire la Forcola per il 2026 perché è un obiettivo che il CIUS è posto e noi dobbiamo assolutamente raggiungerlo anche con la regione Lombardia perché è importantissimo per far defluire tutti i turisti che verranno a vedere le nostre gare. Altra opera importante, noi abbiamo inserito circa 30 milioni di euro per il collegamento dei versanti, quindi questo è un altro obiettivo importante perché oggi nella nostra località manca la possibilità di passare da un versante all'altro, ne abbiamo proposti in diverse posizioni proprio perché dopo dovremo fare tutta una serie di, diciamo, di verifiche con chi segue l'ambiente e con tutta la parte, diciamo, procedurale, ma anche il collegamento è visto in ottica di miglioramento del nostro paese perché se riusciamo a far spostare le persone, gli sciatori con un impianto a fune eviteremo che utilizzino le auto e lo vediamo d'inverno per spostarsi da un versante all'altro, quindi sempre con un'ottica di migliorare il nostro paese. Siamo già arrivati a 80 milioni. L'ultima cosa che abbiamo inserito è una piccola cifra, quindi di 3 milioni di euro per riqualificare a livello urbano il nostro paese perché poi allo stesso tempo dovremo andare a riqualificare da un punto di vista urbano certe zone che meritano un miglioramento. Pensiamo alla zona di Florin, pensiamo alla zona di Beltram, pensiamo alla zona di Freita, quindi abbiamo inserito anche quello. Riuscire a ottenere tutto dalla regione non so se ce la faremo, però dobbiamo giocarci le nostre carte e cercare di dare tutto per riuscire a raggiungere questo obiettivo. E questo per quanto riguarda le infrastrutture, per cui tolte quelle infrastrutture di cui Livigno ha bisogno e che da sempre sta cercando di realizzare, non vi saranno altre strutture? Assolutamente no. All'interno del dossier olimpico, noi come Livigno, come Bormio, come Altavalle abbiamo chiesto altre infrastrutture, non sul territorio nostro dei comuni, ma per raggiungere, per migliorare la viabilità. Speriamo e spero davvero che arrivi qualche conferma di un miglioramento delle strade valtellinesi, quindi sembra che ci siano delle risorse importanti per migliorare la nostra viabilità. All'interno del dossier olimpico, è già finanziato dal governo, abbiamo più di 100 milioni per la frana del Ruinon, per realizzare una galleria all'interno di Santa Caterina e questo credo che sia molto importante, qui la comunità montana ha spinto molto perché Santa Caterina ha avuto davvero tante difficoltà, non solo in questo periodo di Covid, ma se ci ricordiamo l'anno scorso con la strada sempre chiusa per una frana che è una delle più grandi d'Europa sopra la testa e quindi riuscire a fare una galleria di più di un chilometro, quindi costa quelle cifre lì, si riesce perché tramite il governo, tramite l'evento olimpico si riescono a finanziare queste opere per quello che è davvero fondamentale questi eventi, perché purtroppo in Italia per far cose normali servono gli eventi eccezionali. Bene, poi torneremo nuovamente su questo. Abbiamo appena informato la popolazione di questa grande novità, perché credo che sia veramente una cosa molto importante, altrettanto importante sarà capire ora dove verranno organizzate queste gare e come. Beh, dove è semplice, nelle tre schiare che conosciamo, quindi la schiara della Motolino avrà una serie di eventi che adesso non sto a elencarvi perché potrebbero subire dei cambiamenti, la finale della parte della Carosello 3000, che è quella identificata e quello lo posso dire perché naturalmente è la pista ideale per la disciplina delle gobbe e delle aerials, quindi sulla finale della Teaborca scendere sul vecchio parcheggio, sul parcheggio che è ancora esistente della Carosello e mentre nella zona Sitas si sta valutando la possibilità di altre due discipline che potrebbero non essere sistemate nella zona Motolino. La zona Motolino è molto più servibile dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica, quindi avendo la piana di fronte che verrà usata con la neve, quindi non ci saranno infrastrutture, non ci saranno situazioni permanenti nella piana, si userà appunto Codesta per i camion, per tutti i compounding compound, soprattutto per la fan area che servirà da ammortizzatore per la gente che dovrà poi defluire dal villaggio olimpico, perché io intendo villaggio olimpico Livigno, ricordiamoci che Livigno ha vinto questo aspetto di candidatura perché è un villaggio nel villaggio, nel senso che siamo circondati dalle montagne ma abbiamo tre dogane che potrebbero già sbarrare, avere il punto di sicurezza, il primo check di sicurezza appunto nell'area doganale. A questo punto gli avventori dovrebbero entrare, quindi gli spettatori nella zona e caricare quindi le nostre tribune del nostro evento olimpico tre ore prima dell'inizio di un evento e riuscire a defluire in tre ore in caso di emergenza o alla fine dell'evento. Quindi la piana servirà appunto da ammortizzatore per far arrivare dei trasporti dall'esterno verso il punto di raccolta che è la piana di Livigno per poi essere di nuovo distribuiti sulle tre venue di gara. Quindi la piana verrà usata per questo e quindi verrà battuta attraverso i gatti delle nevi e verrà creata questa fanaria con delle attività anche di coreografiche o degli eventi diciamo il fuori olimpiadi come si usa dire adesso con il fuori salone eccetera e poi potrebbe crearsi la medalplazza in caso di distribuzione delle medaglie se questo verrà consentito che è un'altra richiesta che abbiamo fatto al CIO. Quindi la piana con l'area della Motolino molto facile e raggiungibile la zona del Tagliede quindi SITAS per la società SITAS per altri due eventi e poi quella di Carosello. Questa è la venue olimpica e quindi tocca tutto il paese. Ma verranno realizzate piste nuove? Non verranno realizzate piste nuove, verranno realizzate solo delle accorgimenti sulle piste esistenti quindi degli accorgimenti dicevo prima delle gobbe piuttosto che delle piccole movimentazioni per rispecchiare meglio quelle che sono le caratteristiche tecniche delle discipline stesse. Il Big Air che sembrava l'impatto più importante sarà una struttura di tubi innocenti come quella che vediamo a Milano che abbiamo già visto e siamo abituati a vedere nelle grandi città e la piana verrà posizionata vicino alla piana quindi tra il fiume e la piana stessa. Quindi avremo un'area d'arrivo nella zona della piana abbastanza importante che però ci tengo a sottolinearlo il concetto nuovo delle Olimpiadi prevede che l'infrastruttura di ospitalità quindi le persone che stanno in piedi sull'avenio di gara o piuttosto sulle tribune e questo numero di persone sarà in funzione alla capacità della località di ospitare e di far arrivare queste persone quindi se le strade Gallo, Foscagno e Forcola per metro faccio un numero perché non voglio entrare nei dettagli che non ricordo bene però 30.000 persone vuol dire che l'infrastruttura di ospitalità quindi le tribune e le zone in piedi vicino alle piste da gara ospiteranno al massimo 20.000 persone perché sanno che 10.000 potrebbero essere il vigno e 10.000 potrebbero essere i lavoratori quindi è un concetto davvero diverso di queste Olimpiadi quindi la gente non si deve spaventare anche quando il vice sindaco dice vogliamo migliorare la strada per noi perché l'evento se la strada non è in grado di portare 50.000 persone ne porterà 30.000, se non è in grado di 30.000 ne porterà 20.000 è chiaro che questo andrà a ricadere poi sul conto economico della fondazione e del CIO in termini di incassi dei biglietti però è un conto che abbiamo già fatto e che abbiamo già individuato come essere gestibile per tutto l'aspetto economico dell'Olimpiadi stessa generale Avete pensato anche a come coinvolgere la comunità per questi giochi in termini di volontari, in termini di... Allora il primo aspetto appunto è stato questo della visita della FIS il secondo sarà a settembre dove la linea intrapresa è quella di avere un comitato organizzatore interno che farà da collante col territorio che risponderà al comitato quindi alla fondazione Milano e Cortina e con loro si interfaccerà quindi ci sarà un comitato interno che farà in modo di recuperare i volontari nella località le manovalanze, le maestranze più importanti perché ne abbiamo tanti se pensiamo nel freestyle in specialità delle gobbe abbiamo una persona, Loris Leone, che ha implementato tutta quella che è l'area del freestyle a Sestriere quindi nell'Olimpiadi del 2006 ci sono altre persone che hanno fatto Coppa del Mondo o comunque sono stati allenatori che verranno integrate con le quali abbiamo già chiacchierato per essere integrati in questo gruppo di lavoro è chiaro che i volontari dovranno essere molti di più e quindi ci sarà la struttura appunto di fondazione Milano-Cortina che farà da garante per quelle che sono le persone volontarie che saranno sul nostro territorio per dare una mano nella movimentazione delle materie prime piuttosto che nella gestione delle risorse umane piuttosto che nella gestione appunto del traffico, quello che è necessario quindi localmente avremo un gruppo di lavoro che si obbligherà di farsi carico di alcune situazioni che solo il locale può portare avanti mentre dalla parte esterna, diciamo dalla regia principale di Milano ci sarà solo una interlocuzione per riuscire a raggiungere quegli obiettivi che la fondazione si pone che è già stata individuata? non è ancora stata individuata perché dal prossimo consiglio di amministrazione di Milano-Cortina usciranno le linee guida e poi ci adopereremo per questo però la linea sembra, se non verremo smentiti a settembre, sembra essere questa quindi non un governo centrale che interviene sul territorio ma il territorio che aiuta il governo centrale per svolgere Olimpiadi i lavori quando inizieranno? questa è una bella domanda, ieri dovevano iniziare ieri adesso lavoreremo in autunno per definire con Regione Lombardia i passaggi soprattutto di finanziamento ecco una cosa molto importante, il Comune di Livigno ha chiesto da subito e anche Regione è stata d'accordo che le opere, i soldi delle eventuali opere da realizzare arrivino al Comune di Livigno quindi noi non possiamo accettare enti che arrivino da fuori ma sarà il Comune a portare avanti queste opere attraverso probabilmente anche sue società controllate però dove il Comune e quindi la popolazione è coinvolta all'interno di questo e questo è molto molto importante quello che dicevo anche prima e che mi preme sottolineare è molto importante che Livigno indichi una linea, indichi una linea guida perché nella legge olimpica, all'interno della legge olimpica c'è la possibilità se a tre anni di distanza di fatto dalle Olimpiadi quindi nel 2023 non si fossero realizzate quelle opere che sono fondamentali per fare le Olimpiadi a quel punto l'Agenzia del territorio governativa potrebbe venire sul territorio a realizzare le opere al posto del Comune o al posto di enti per posti quindi questo lo dobbiamo scongiurare dobbiamo come Paese lavorare assieme cercare delle soluzioni che vadano bene a tutti e poi lavorare duramente perché dobbiamo indicare a noi quello che serve per il futuro perché noi parliamo di Milano Cortina 2026 ma in realtà dovremmo parlare del 2027 cosa ci resta? Ecco ci piacerebbe che il 2027 Livigno sia migliore di come era prima delle Olimpiadi insomma un'ultima cosa anche importante che adesso ci stiamo concentrando sulla parte pubblica poi sicuramente le Olimpiadi rappresenteranno una grande opportunità da un punto di vista sicuramente di appeal della località perché sicuramente essere sede olimpica è un motivo di grande orgoglio credo di tutta la gente di Livigno che ha fatto tanti sacrifici se pensiamo a come è nata Livigno tanti tanti anni fa e oggi è sicuramente un bel punto di arrivo altra cosa sicuramente arriveranno poi dei fondi a sostegno del territorio del tessuto sociale quindi economico quindi alberghi, negozi questo sarà anche un'altra partita molto importante che arriverà dopo perché poi il privato è più snello nel realizzare le cose ma sarà un'altra cosa molto importante e quindi anche lì gli operatori, le associazioni di categoria dovranno trovarsi pronti per sfruttare a meglio queste opportunità insomma Sappiamo che prima ancora di ottenere questa candidatura si era già mosso per avere alcune gare per poter ospitare alcune gare e aveva già introdotto questo tema attraverso le federazioni quindi quali novità vi sono sul fronte delle gare dopo le sue richieste alla FISI e alla FIS di poter ospitare qualche gara che ovviamente alcune andranno organizzate prima delle Olimpiadi come già previsto dal protocollo altre invece potranno essere qualcosa in più Ci saranno degli eventi internazionali quindi delle gare di Coppa del Mondo per le discipline olimpiche sicuramente prima per i test event ma qui si parla del 2025-2024 La fortuna vuole che non essendo una località che ha ospitato eventi internazionali di questa caratura la richiesta di FIS a Regione Lombardia al presidente della FISI Flavio Roda è stata quella di assegnare quante più gare possibili e ammissibili nel territorio di Livigno da parte della FIS quindi ci hanno agevolato un pochino il lavoro Noi avevamo già fatto il nostro e personalmente avevamo già ottenuto tanto a mio modo di vedere e invece in questo modo riusciamo a essere un pochino più accontentati o accontentabili per quello che vogliamo portare avanti Già per l'inverno si sta discutendo su una gara di Coppa del Mondo che sarebbe poi la gara di Coppa del Mondo che abbiamo dovuto annullare a causa Covid a marzo quindi il parallelo di snowboard ma ci sarà anche una situazione più agevole grazie a questa candidatura e questa vittoria e ottenimento delle Olimpiadi per quello che era lo solo parallelo di Coppa del Mondo nella disciplina dello sci alpino Io ho presentato un nuovo progetto dove anche si può far riferimento sulla snow farm e quindi tener conto della parte di snow farm anche se purtroppo quest'anno non è nel suo migliore stato anzi è nel peggiore stato di conservazione del manto nevoso per quanto ne concerne degli ultimi 4 anni ma il futuro vede anche la possibilità di avere queste discipline La possibilità e la volontà soprattutto la volontà di avere queste gare è necessaria per creare appunto questo gruppo di lavoro di cui parlavamo prima e quindi creare la macchina operativa in grado poi di sostenere quello che è l'evento importante che è il test event prima delle Olimpiadi perché ricordiamoci bene che la cosa più difficile è arrivare al test event pronti, preparati e deve essere tutto a puntino le Olimpiadi è un di cui del test event è un di cui degli eventi fatti prima ritorno un pochino indietro Anterselva, Bormio hanno già tutto fatto hanno già una squadra pronta noi non abbiamo nessuno è quello che si diceva prima il comitato organizzatore locale dovrà creare un team di lavoro dovrà testare questo team di lavoro e lo farà attraverso questi eventi importanti internazionali che saranno sì delle discipline olimpiche ma anche delle discipline estive quali la mountain bike e poi anche dello sci alpino che quindi dicevo l'evento di novembre che non è assolutamente passato nel dimenticatoio quest'anno il primo parallelo sarà a Zursi in Austria e poi dovrebbe toccare a noi quindi questa linea è stata tracciata le garanzie ci sono ora appena ci sarà il consiglio della FIS avremo nuove informazioni e nuove soluzioni appunto per andare in questa direzione io credo molto negli eventi di inizio stagione quindi novembre che possono comunicare oltre alla sci e alla montagna possono dare veramente uno slancio a una valtellina che è assolutamente protagonista negli sport invernali quindi se ho capito bene già a partire dalla prossima stagione l'Ivigno ospiterà degli eventi di caratura mondiale per poter arrivare già ai test event pronta esattamente questo è il percorso che ci è stato consigliato dalla FIS è il percorso che abbiamo anche noi suggerito chiaramente dobbiamo essere poi noi pronti a decidere se già il 21 o il 22 nella mia testa e nella mia linea adesso condivideremo anche con l'amministrazione questo percorso dovrà esserci già un inizio per non trovarci nel 2024-2025 avere due o tre eventi in un colpo solo per poter dimostrare al CEO che siamo in grado quindi quello vorrebbe dire affossare un pochino la località negli anni precedenti quello dell'Olimpiadi quindi l'ideale sarebbe partire nel 2021? assolutamente questa è la mia idea lei ha citato prima lo snow farm che cosa è successo allo snow farm? lo snow farm tra l'altro mi fa piacere questa domanda e l'ho diciamo spinta a farmela perché il problema è che tanti Livignaschi mi chiedono come mai quest'anno si sta assogliendo così e c'è anche tanta polemica semplicemente non avendo le idee chiare su cosa poteva succedere al bilancio di APT e al bilancio di comune quello che ha citato prima Remo dopo il covid abbiamo optato per non mettere quella coltre di segatura o quel spessore di segatura importante che facesse da isolante per l'irraggiamento solare o comunque da isolante dalla parte esterna dell'anno in cui vi è stato più sole in assoluto l'anno in cui vi è stato più sole l'anno in cui l'abbiamo coperto all'ultimo perché i dipendenti i collaboratori di APT erano a casa a causa covid e quindi l'abbiamo coperto tardi l'abbiamo coperto senza segatura e questo è il risultato l'unica cosa a me piace vedere le cose in modo ottimistico che c'è è quella che abbiamo misurato la situazione più estrema estrema e la peggiore per quanto riguarda la gestione dello snow farm avevamo tanta neve avevamo accumulato parecchia neve purtroppo si è sciolta e siamo a un livello addirittura peggiore di quello di due anni fa che era il livello più basso mentre lo scorso anno era un buon livello quindi secondo lei non sarà possibile realizzare l'anello ad ottobre di fondo questa è una news apriremo proveremo a aprire per i morti quindi il 30 di ottobre dovrebbe essere un venerdì se non erro un sabato tenteremo di aprire l'anello di fondo ha già visto anche le previsioni quindi sa già anche se avrebbe una perturbazione vedremo perché parecchi hotel stanno chiamando e chiedendo quindi di una situazione negativa che tutti vedevano come pugno in un occhio tanti chiamano perché hanno necessità per le squadre che arriveranno non apriremo la metà di ottobre come era solito fare il 16 o il 15 di ottobre dipende come cadeva il giorno ma apriremo la fine del mese cercheremo di capire con le temperature con la situazione climatica atmosferica e soprattutto col quantitativo di neve che ci è rimasto quando aprire e in che funzione magari la fortuna vuole che sarà molto freddo e quindi avremo l'innevamento e non ci accorgeremo di niente speriamo però ad oggi la situazione è questa e non mi sento già comunicato a chi di dovere di preparare la pista per la fine di ottobre però lei ha già tutte le richieste anche delle squadre disposte a venire abbiamo già tutte le richieste e questo ci dobbiamo mordere la lingua e quando ci dicono ma come mai non aprite come il solito a metà di ottobre si tratta semplicemente di attendere altre due settimane esattamente purtroppo la scelta è stata questa è stata una scelta di paura per una spesa che non pensavamo di poter sostenere che forse oggi visto la stagione in atto e quello che è successo avremmo potuto sostenere ma chi se lo aspettava e un'ultima cosa quando inizierete a comunicare i giochi olimpici del 2026? proprio ieri è arrivata una documentazione su come possiamo comunicare purtroppo questa documentazione e questa regola implica il non uso degli emblemi dei giochi olimpici distribuiremo sul territorio il metodo da usare da ottimizzare questa comunicazione non lo faremo prima del 15 di settembre dove avremo già collaudato e capito e raccontato e soprattutto discusso con il CIO quale metodo migliore per poter dare pubblicità e promozione di una località che ospita i giochi olimpici ricordo che avremo la delegazione di Milano e Cortina il 4 il 5 il 6 qui a Livigno abbiamo vinto questa gara con i nostri amici di Cortina e della Val di Fiemme e quindi ospiteremo il team building della fondazione Milano e Cortina con il dottor Novari con Malagoa e con tutta la squadra di Milano e Cortina dove qui si incontreranno per i primi lavori le prime conoscenze tra di loro e noi ne siamo molto orgogliosi siamo partecipi come gruppo di Livigno e soprattutto come APT e operatori degli impianti dove ospiteremo l'Evenio per condividere dei momenti e soprattutto il futuro e la prospettiva olimpica 2026 un'ultima cosa non abbiamo parlato di treno ma sappiamo che questa è una tematica importante sappiamo anche che avete incontrato i vicini svizzeri è stata avanzata questa ipotesi di pensare ad un collegamento ferroviario con Livigno col trenino rosso del mi posso riservare di rispondere prossimamente sì ma è meglio parlare quando si ha qualcosa di di concreto di concreto e certo le olimpiadi sono una grande opportunità quindi vedremo cosa cosa si si potrà fare per migliorare come dicevo è un problema della viabilità c'è da Livigno da tanto tempo e lo paghiamo ogni anno pensare una soluzione green e una soluzione che porterebbe Livigno porterebbe Livigno ai passi con i tempi molto in alto perché abbiamo il trenino rosso del Berlino a patrimonio dell'UNESCO qui vicino vediamo non si sbilancia bene abbiamo detto tante cose davvero molto importanti svelato tanti retroscene anche importanti per comprendere come perché è stata organizzata così la candidatura di Livigno ne riparleremo prossimamente come già anticipato da Moretti che ringrazio per essere intervenuto oggi grazie a voi e naturalmente il vice sindaco Remo Galli grazie buonasera grazie anche a voi Grand Angolo vi dà appuntamento a venerdì prossimo arrivederci a venerdì prossimo